Lavoro profondo, qua bisogna pensare. Che cosa vuol dire? Fare le cose. Pensare non è metto lì e medito, pensare è, ok, devo andare in quella direzione, che devo fare per andare in quella direzione? Questo vuol dire pensare. Queste qua di solito sono quelle attività ad alto valore aggiunto che richiedono concentrazione. Questo ragazzi, conta solo il lavoro che richiede concentrazione. Non ha senso per noi fare un lavoro diverso, non è il nostro ruolo. Ancora, è il lavoro che preferisco. L'unico problema quali sono? Le interruzioni. Cercate di ridurre. Perché? Perché oltre all'interruzione c'è il costo di riconnessione, che è un costo enorme. Pensate banalmente al fatto che voi siete a un corso, ricevete una notifica, state scrivendo una cosa, una cosa importante, che cacchi ha detto, boom, me ne dimenticate. È della stessa cosa quando io sto facendo qualcosa e scusami non posso rispondere. È la stessissima cosa. Tanto a rispondere, tanto a cliccare sul cellulare quella cosa, tanto a rispondere è la stessissima cosa ormai. Ecco perché prediligo evitare tutto questo.